Ciao a tutti, io sono Susanna, ben ritornati su Arcos Academy, la scuola di italiano online. Pronti per un nuovo video? Prima di cominciare però, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare le notifiche. Volete imparare l'italiano più velocemente? Iscrivetevi alla community esclusiva di Arcos Academy. In descrizione trovate il link su cui cliccare. E ora, cominciamo! Ciao ragazzi! Come forse sapete già, in italiano qualsiasi cosa ha un genere. Oggetti, persone, animali si dividono in due gruppi, maschile e femminile. In altre lingue straniere, come l'inglese, lo spagnolo, il russo, troviamo il genere neutro, per cose, emozioni. In italiano, no. Noi abbiamo o maschile o femminile. Basta, non c'è nessun'altra scelta. Dovete quindi stare attenti al genere del sostantivo che trovate e, di conseguenza, accordare eventuali aggettivi o articoli in base al genere della parola che volete usare. Riuscite a fare un esempio utilizzando una parola italiana che, però, non ha lo stesso genere della traduzione nella vostra lingua? Provate! Come vi è sembrato questo video? Interessante? Facile? Cliccate qui per vederne gli altri, oppure cliccate qui per entrare nella community esclusiva di Arcos Academy. Io vi aspetto, mi raccomando!